Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale e oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato da Firenze University Press dal titolo Atto Abate Vallombrosano e Vescovo di Pistoia, bilancio storiografico e prospettive di ricerca sulla vita e l'opera di un protagonista del XII secolo, a cura di Francesco Salvestrini che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite perché ci parli di questo interessante personaggio. Quindi io come mia abitudine gli lascio subito la parola. Prego a lei. Grazie, grazie e buon pomeriggio a tutti. Io introduco brevemente questo volume appena uscito appunto per i tipi di Firenze University Press. Si tratta di un'opera collettiva che propone diciamo gli atti di un convegno che si era svolto nel pieno della pandemia nel 2020, quindi non aveva potuto avere neanche una grossa diffusione, una grossa conoscenza perché si è svolto tutto a distanza in un momento particolarmente difficile. Fra l'altro questo libro accoglie una serie di saggi, alcuni dei quali presentati in quell'occasione ma altri invece anche che si sono aggiunti successivamente. Chi è atto da Pistoia, detto anche attone in forma più italianizzata, è un vescovo ma prima di essere vescovo della città toscana di Pistoia è stato anche abate maggiore dei monaci vallombrosani, monaci benedettini vallombrosani, diffusi un po' in tutta l'Italia centro-settentrionale. Il volume può sembrare diciamo un omaggio a un personaggio locale insomma cioè un abate che poi è stato vescovo di una città di media importanza come Pistoia in età comunale e quindi il discorso potrebbe apparire un po' una celebrazione diciamo per una figura di rilevanza regionale. In realtà il discorso è molto più complesso, non a caso nel titolo generale io ho voluto aggiungere un protagonista del dodicesimo secolo perché questo personaggio ha agito a livello di diciamo di tutto il bacino del Mediterraneo occidentale e perché brevemente appunto chi era? È un personaggio di origine ignota, molto probabilmente un toscano che improvvisamente intorno al 1120 circa noi lo troviamo a difendere i cittadini di Firenze da una minaccia di scomunica papale perché avevano attaccato la città di Fiesole. Quindi dal nulla noi troviamo che un monaco perché sappiamo appunto che era un monaco dell'ordine di Vallombrosa viene addirittura richiesto dai fiorentini perché scriva una lettera che noi abbiamo a difesa di Firenze contro una possibile scomunica appunto fatta per questa loro azione di guerra. Quindi un personaggio che probabilmente molto giovane già aveva una certa notorietà. Dopo poco tempo sappiamo che questa notorietà lo porta a diventare abate generale dell'ordine o è possibile perché la cronologia non è chiara che già lo fosse quando ha scritto questa lettera. Comunque abate generale, abate maggiore dell'ordine Vallombrosano quindi personaggio di spicco ma probabilmente in questa sua missione a Roma in difesa dei fiorentini conobbe il cardinale che poi diventerà papa Innocenzo II. Questo incontro sarà fondamentale per questo personaggio perché lui entrerà diciamo nell'entourage, nel giro, nel contesto di questo papa che ebbe una vicenda molto complessa perché subì uno scisma una parte dei cardinali e in esse il suo nemico appunto Papa Anacleto. Quindi il fatto di essersi schierato lui e tutto l'ordine Vallombrosano dalla parte di Innocenzo che poi risulterà il papa vincitore diciamo in questa disputa anche perché è protetto da Bernardo di Chiaravalle, questo gli darà un forte impulso. Allora questo personaggio ha agito su vari fronti e quindi diventa una figura veramente interessantissima per capire le dinamiche del dodicesimo secolo italiano. Vari fronti perché? Allora uno, prima è abate generale e dell'ordine e come tale prosegue l'espansione dell'ordine Vallombrosano nell'Italia del nord. Noi troviamo che monasteri ad Asti, in Lombardia, a Verona eccetera sono tutti legati più o meno direttamente alla sua volontà di espansione, cioè di consolidare quest'ordine nel nord Italia. Appoggiato da Matilde di Canossa che fra l'altro aveva conosciuto negli ultimi anni della sua vita, Matilde che era stata già alleata dei Vallombrosani all'epoca di uno dei predecessori di atto, cioè Bernardo degli Uberti, lui sfrutta diciamo questo appoggio di Matilde di Canossa non solo per consolidare l'ordine ma anche per diventare vescovo di Pistoia. Pistoia era una città che prima diciamo del pieno sviluppo del comune era molto legata ai contiguidi, contiguidi che secondo alcune tradizioni per certi aspetti anche comunque attendibili, mirava i successori di Matilde come marchesi di Tuscia e felvatari di quasi tutta l'Italia del centro nord. Quindi la città di Pistoia era una città strategica come l'era stata Parma di cui era diventato vescovo, Bernardo degli Uberti predecessori di atto. Quindi insomma già inserito in queste dinamiche. Diventa atto vescovo di Pistoia e subito entra in conflitto con il nascente comune locale che vuole imporre tassazioni e il controllo insomma sulla curia vescovile. Reagisce in che modo? Approfittando della rete di monasteri Vallombrosani del nord Italia prima per chiedere delle reliquie, delle reliquie dei Santi Cervasio e Protasio a Milano. Quindi vedete quanti fronti complessi. Queste reliquie che sono molto preziose per i milanesi lui non riesce a ottenerli ma rimanendo fedele a Innocenzo II entra in contatto con un altro arcivescovo molto importante, un altro arcivescovo, lui non lo è, ma con un altro prelato di grande prestigio dell'entourage di Innocenzo II che era l'arcivescovo di Santiago di Compostela, Diego Germiles. Che cosa riesce ad ottenere atto? Riesce ad ottenere che una particola della reliquia dell'apostolo Giacomo Maggiore conservata a Santiago di Compostela possa essere donata alla cattedrale di Pistoia. Quindi lui fa venire questo frammento presso Pistoia. Che cosa comporta questo? Un'enorme crescita di prestigio per lui e per la sede episcopale che blocca o perlomeno ritarda moltissimo le ambizioni di controllo sulla chiesa locale da parte del comune di Pistoia. Quindi c'è una forte reazione, cosa che spesso non viene presa in considerazione, si parla dei vescovi come figure che politicamente restano soggette alle autorità comunali. In realtà ci sono molti eccezioni e la situazione è molto più complessa. A Pistoia in un primo momento il vescovado riesce a prevalere sul comune, a imporre la propria volontà. Atto istituisce quindi un culto di San Jacopo Maggiore, di San Giacomo in Toscano, diciamo il trietto toscano, Jacopo Maggiore a Pistoia, fa di Pistoia una meta del pellegrinaggio internazionale per coloro che dalla Francia a Santiago andavano verso Roma, crea un polo diciamo di pellegrinaggio, fa sì che ancora oggi il patrono di Pistoia sia San Jacopo, San Giacomo Maggiore, quando in realtà prima di Atto non c'era una particolare tradizione locale e quindi diventa un personaggio di primo piano al punto che si meriterà anche la canonizzazione per cui anche Atto diventerà santo. Quindi ultima cosa, in queste relazioni noi abbiamo cercato di vedere quali erano appunto tutti gli orizzonti, Atto continua ad occuparsi dell'ordine Vallobro Sano anche quando diventa vescovo di Pistoia e promuove l'espansione dell'ordine non solo nel nord ma anche in Sardegna attraverso le città di Genova e di Pisa che avevano controllo sulle diocesi delle due isole del Mediterraneo e quindi i Vallobro Sani saranno presenti come i camaldolesi anche in Sardegna e in Corsica. Quindi vedete quello che a me l'ha colpito fin dall'inizio era che un apparente vescovo di una cittadina minore in realtà finisce per essere appunto un protagonista dell'epoca in quanto agisce su un fronte vastissimo che va appunto da Milano alla Sardegna, da Santiago de Compostela all'Italia, si relaziona con uno dei papi più complessi del dodicesimo secolo qual è appunto Innocenzo II, si relaziona molto probabilmente anche se non in modo diretto con Bernardo, i suoi monaci Vallombrosani si rafforzano come forte presenza di obbedienza romana nell'Italia padana legata appunto invece al culto ambrosiano eccetera e quindi è un personaggio indubbiamente di primissimo piano che finora era poco conosciuto, soprattutto era conosciuto a Pistoia per questa sua lotta contro il comune, ma in realtà come vedete questa lotta contro il comune si può spiegare solo attraverso tutte queste grandi relazioni che ha avuto. Ultime cose sul libro, il libro si compone di relazioni di carattere storico diciamo, quindi che inquadrano la realtà del periodo, il papato del periodo, la situazione della chiesa pistoiese e quella dell'ordine vedettino Vallombrosano, ma c'è anche una parte molto essenziale del volume dedicata alle committenze artistiche architettoniche di questo vescovo che naturalmente accolse le reliquie di San Giacomo maggiore, modificando completamente la struttura della cattedrale di Pistoia per ospitare questa importante reliquia. Quindi la committenza artistica e anche la tradizione storico-letteraria legata a livello anche pistoiese a questo personaggio che diciamo ha lasciato tracce anche di devozione una volta diventato santo per la sua, nella città di Pistoia. Un contributo interessante è anche quello di alcuni anatomopatologi, anzi anatomopatologhe, sono quasi tutte donne, che hanno analizzato il corpo di atto che pur non essendo stato mummificato si è conservato quasi intatto ad oggi e quindi è stato possibile studiarne l'età, la struttura del corpo, le malattie, le patologie di cui soffriva. C'è anche un appendice scientifica che fra l'altro dimostra una cosa che già si sapeva in parte ma insomma che atto è indubitabilmente di origine italica laddove invece la tradizione storica erudita locale in conseguenza dei suoi rapporti con Santiago de Compostela lo voleva di origine spagnola, di origine iberica, quando invece insomma per varie ragioni storiche ma a questo punto anche scientifiche noi sappiamo che era in realtà toscano e italiano. Però ecco è interessante aver potuto riunire in un'unica sede contributi di storici, di storici dell'arte, dell'architettura e anche di anatomopatologi che studiano i corpi che restano appunto dall'antichità, dal medioevo e dall'antichità considerando che come ci hanno spiegato appunto in questa relazione avere corpi non mummificati conservati naturalmente del XII secolo è una cosa estremamente rara e quindi è anche un oggetto proprio fisico di studio molto interessante. Questa è un po' la panoramica generale di questo volume. Molto interessante, molto interessante anche perché è uno snodo di un secolo tra i più interessanti dal punto di vista degli scambi, degli scontri, degli incontri, dal punto di vista della storia della chiesa, quindi è veramente un volume che bisogna assolutamente avere. Tra l'altro è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito di Firenze University Press, c'è un pdf gratuito online. Quindi io vi ricordo il titolo in modo che possiate scaricarvelo e leggervelo è Atto Abate Vallombrosano e Vescovo di Pistoia. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca sulla vita e l'opera di un protagonista del XII secolo a cura di Francesco Salvestrini che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite che io ringrazio davvero tanto per averci illustrato questo volume. Grazie. Grazie a lei. A tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le videopresentazioni realizzate fino ad ora. Quindi arrivederci e grazie ancora. Arrivederci.